Tutti in piazza per sostenere dalla sua città Virginio Simonelli, il giovane cantoautore impegnato domenica sera nella finale del programma Amici di Maria De Filippi. Il fondano è riuscito ad avere la meglio su altri concorrenti e soprattutto a farsi amare dal pubblico. Non è un caso che dopo l'assegnazione del primo posto da finalista alla ballerina Giulia, un sondaggio pubblicato su TV Blog lasciasse chiaramente emergere l'alto gardimento per il cantoautore, con il 39% dei votanti che avrebbe preferito Virginio quale primo finalista. Poco conta ora, visto che il fondano sarà comunque protagonista dell'ultima puntata, dove giocherà tutte le sue carte fatte di voce e talento per vincere nella competizione. Con le sue note di musica intimista e malinconica Virginio ha unito tutti i fondani che con trepidazione hanno assistito a tutte le sue performance. Imperdibile dunque l'ultima puntata del talent show, proprio per questo il Virginio Simonelli Official Forum e il Comune di Fondi in collaborazione con Canale 7 hanno deciso di allestire il maxischermo in piazza 4 novembre, con relativi posti a sedere, proprio per poter assistere alla diretta tv domenica. Tutti i concittadini di Virginio potranno così commentare, gioire, ma soprattutto tifare il loro beniamino che ha portato il nome di Fondi su un palcoscenico importante come quello di Canale 5, una vera e propria festa popolare dove gli abitanti di Fondi si ritroveranno uniti grazie alla musica. L'appuntamento è a partire dalle ore 20 e 30 per attendere l'inizio della diretta accompagnati dalla visione di un videoclip che ripercorre le tappe che hanno portato Virginio alla finalissima del programma della De Filippi. A seguire ci sarà l'integrale della diretta della finale di Amici. La diretta sarà curata dal tecnico Marco D'Ambrosio.